In questo video parleremo di registration, lo status del bus sustain non veniva correttamente aggiornato nel display. Allora, come sempre vi farò due video, uno con la release 205 dove l'errore si manifesta e l'altro con la release 206 dove l'errore è stato corretto. Allora, innanzitutto il bus sustain è stato corretto il valore nel display. Cosa vuol dire? Che in uno style, quando io vado a premere sul pannello manual bus, io posso suonare il basso manuale a sinistra e l'accordo sulla destra con un valore di sustain a mia scelta. Allora, io qua ho fatto due style, uno col valore sustain 10 e l'altro col valore sustain 55. Allora, vediamo quello con 10 come suona. Ok, vediamo invece quello con sustain 55. Ok, fin qui tutto bene. Diciamo, l'errore qual è? È che nel display questo parametro non viene mostrato. E vi faccio vedere. Io premo sustain 10. Vedete, il suono è bello stoppato. Vado in view. Premo basso. Vedete? Sustain mi dice che sta off. Vedete? Se io vado nell'altro style Vedete? E vado nel menu più basso Sta sempre a off. Quindi, praticamente l'errore è questo qua. Il valore di sustain che io ho memorizzato nello style E di conseguenza lo vado a memorizzare anche nella registration Questo non mi viene visualizzato nel display Con la release 206 questo problema è stato risolto E ve lo farò vedere nel prossimo video Allora, vediamo come hanno corretto lo status del bus sustain Che non veniva correttamente aggiornato nel display Allora, carico questo style Che c'è il bus sustain a 10 Lo suono Ok? Vado nel menu view Bass E vedo il suo valore 10 Ok? Vado nel bus sustain beat Con sustain 55 Ok? Vado nel menu view Bass E vedo il valore 55 Quindi il problema del bus sustain Che non veniva memorizzato nello style E di conseguenza anche nella registration È stato risolto con la release 206 Che non veniva